Se vogliamo fare un confronto tra il canale grande e una normale autostrada, chi congestiona un'autostrada sono i tir e quindi le barchette da di porto sono relative nel congestionamento del canale grande. Il canale grande è congestionato dai vaporetti della CTV, sono quelli i colossi di 30 metri che vanno regolati. Venezia Com punta il dito contro il nuovo programma del traffico in canale grande presentato dall'amministrazione comunale. La storica associazione di residenti veneziani contesta in particolare il punto 7 dei 26 contenuti nel piano, divieto di transito dalle 6 alle 12 delle unità a uso privato a motore. Non è certo il barchino che va ad influire sul traffico in canale grande, anche perché sinceramente siamo sempre di meno, qui a Venezia non è che abbiamo una flotta di 30.000 barchini che vanno in giro ogni giorno di mattina per Venezia. È un provvedimento sicuramente inutile. Forti perplessità anche verso l'ipotesi di un accorpamento delle linee 1 e 2 di ACTV, con una soppressione di fatto della seconda in cambio di un aumento di corso per la prima. Si andrebbe a creare un'ulteriore congestione del flusso turistico sommato alla quotidianità del flusso dei veneziani e sicuramente peggiorerebbe. La proposta alternativa? Differenziare completamente i percorsi delle due linee, destinando alla 2 le fermate di grande flusso turistico come stazione Rialto, Accademia e San Marco, mentre la 1 salterebbe questi imbarcaderi per sostare in destinazioni più battute dai residenti come Erbaria, Sant'Angelo, Sant'Omà, Salute e Sant'Elena. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.